Grafic, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura. Vai da te, crea con Grafic. Prova il gel che non è grasso. Vai da te, fissa con Grafic. Che volume con Grafic. Lo spray modellante che fissa ciocca a ciocca. Vai da te, pacchi chic con Grafic. Grafic di Garnier. Vai da te con Grafic.